Immaginiamo ci siano cinque amici ad un cinema e i cui nomi sono Aldo, Beatrice, Carlo, Dario e Elena e che si vogliano metter seduti e trovino tre posti liberi nei quali si andranno a posizionare tre di queste persone e si vuole analizzare in quanti modi è possibile distribuire tre persone di queste cinque in questi tre posti e con che sequenza si mettono seduti. In questo caso si potrebbe pensare di bloccare per esempio il primo elemento, cioè di dire che nella prima posizione si mette seduto Aldo a questo punto le possibili opzioni successive sono quelle che fanno intervenire uno qualsiasi degli altri quattro elementi rimasti. Quindi abbiamo quattro possibili associazioni della seconda persona rispetto alla prima che è stata scelta. La prima che è stata scelta era arbitrariamente A, per cui poteva essere scelto per esempio la persona B, la Beatrice in questo caso. Una volta scelta Beatrice, la seconda persona era ugualmente possibile sceglierla all'interno di una gamma di quattro opzioni, in questo caso A, C, D, E e così via bloccando quella che era la prima persona. Quindi abbiamo cinque possibili blocchi della prima persona che vengono associati a quattro scelte per quanto riguarda la seconda persona, quindi nella distribuzione dei posti a sedere. Quindi in questa fase 5 per 4 sono le possibili combinazioni con le quali si possono distribuire le prime due persone. A questo punto immaginiamo di aver deciso quali sono le prime due persone nei primi due posti e che siano ad esempio A e B. A questo punto ci rimane a disposizione una terza scelta, ma gli elementi sono ormai diventati solo tre. Questi elementi sono C, D ed E. Se invece avessimo scelto A ed E, gli elementi con cui combinarli sarebbero stati le lettere rimanenti, quindi B, C e D. Quindi una volta fissati i primi due posti, il terzo posto è da scegliere vincolato al numero degli elementi che sono rimasti. Sono rimasti tre elementi e quindi occorre effettuare un'altra moltiplicazione per tre. Per poter arrivare, mettiamo il caso che il terzo elemento fosse C, allora la distribuzione sarebbe stata A, B, C. Se il terzo elemento fosse stato D, sarebbe stata A, B, D. Facciamo un altro esempio con la prima lettera B, una seconda scelta che è A e una terza scelta che è C. Quindi abbiamo un B, A, C. Notiamo che queste due combinazioni, A, B, C e B, A, C, pur possedendo gli stessi elementi, sono considerate diverse perché la distribuzione degli elementi è stato detto in premessa che era importante per distinguere le sequenze stesse. Quindi 5 per 4 per 3, che è uguale a 60, sono le possibili distribuzioni dei cinque ragazzi nei tre posti che hanno trovato a disposizione. Questo tipo di distribuzione degli elementi viene chiamata disposizione semplice e bisogna specificare, una volta che formalmente si dà un esercizio su una disposizione semplice, quanti sono n gli elementi che andranno ad essere distribuiti, nel nostro caso sono 5, e la classe della disposizione, cioè in quante posizioni si possono distribuire. Abbiamo visto che per questo tipo di distribuzione di elementi è importante sapere quali sono gli elementi che vengono distribuiti, quindi una distribuzione si differenzia dall'altra perché magari c'è un elemento diverso, elementi diversi. Per esempio ABD e BAC si differenziano perché alcuni elementi sono diversi. L'altra possibile diversità riguarda l'ordine. La distribuzione ABC è diversa dalla BAC e un'ultima sottintesa caratterizzazione di questa disposizione semplice è il fatto che gli elementi non si possono ripetere, cioè se Aldo si è messo seduto in questa prima posizione, beh non si potrà mettere seduto nelle posizioni successive, quindi l'elemento non si può ripetere. Quindi potremmo dire no ripetizione. Una formula generale che quindi colleghiamo con la disposizione semplice per poter trovare il numero che caratterizza in effetti questa disposizione semplice è n che moltiplica n-1 che moltiplica n-2 e così via fino a quando? Fino all'ultimo numero, l'ultimo fattore di questa produttoria che è n-k più 1. Nel nostro caso in particolare n era uguale a 5, n-1 è 4, n-2 è 3. Osserviamo quello che dovrebbe essere l'ultimo termine, 5-3 più 1, 5-3 è 2, più 1 è 3, l'ultimo termine è 3. Quindi in realtà in questo caso in particolare n-2 è l'ultimo termine della produttoria che quindi si conclude e si conclude con quello che da un'analisi più qualitativa abbiamo trovato essere il numero delle possibili combinazioni, anzi ormai chiamiamole possibili disposizioni semplici, di 5 elementi in classe 3. Un analogo risultato potrebbe essere applicato nell'eventualità che il problema fosse il seguente. Ipotizziamo di avere a disposizione 5 numeri, 2, 3, 4, 5 e 7 e di chiederci quante possibili numeri a 3 cifre si possono ottenere giocando con questi numeri qui. e i possibili, per esempio 3, 4, 5 è una possibilità, ma anche 4, 3, 5 è un numero diverso dal precedente. Quindi abbiamo un n uguale a 5 elementi da distribuire sostanzialmente in tre posizioni, k uguale a 3, abbiamo che si possono differenziare, si possono differenziare per la distribuzione degli elementi, quindi per quello che dicevamo essere l'ordine, per gli elementi stessi, per esempio 2, 3, 4 è un'altra combinazione, se nel testo dell'esercizio veniva detto che gli elementi non si dovevano ripetere, allora sarebbe stata una disposizione semplice e quindi si concludeva con questa formula qui. Se gli elementi invece si potessero ripetere, la disposizione si direbbe essere con ripetizione. e vediamo quindi di commentare una possibile distribuzione degli elementi simile a questa, ma con ripetizione. Grazie a tutti.